Il caso Arrustita, che ha tenuto banco nelle ultime settimane tra discussioni, ironia e dibattito anche sui social, ieri ha prodato in consiglio. No, non era all'ordine del giorno, ma tra i punti di discussione della seduta c'era anche la variazione di assestamento generale 2019, che, seppur approvata senza problemi, conteneva la voce sul rifinanziamento del mese di ottobre delle mense nelle scuole. Ed è qui che il dibattito ha preso vita in aula con Fabio Pinna, vice sindaco dell'amministrazione Sanna, che ha preso la parola specificando che le risorse per il primo mese di mensa erano state temporaneamente sospese in vista delle amministrative, che, cosa nota, furono spostate dalla data delle europee, costringendo le casse comunali ad una spesa non prevista. Ma fu specificato in quella stessa delibera di correggere le voci di spesa entro fine luglio in sede di assestamento di bilancio, in favore delle risorse necessarie, circa 180.000 euro, per finanziare il servizio mensa nel mese di ottobre. Il sindaco Campus in aula ha ulteriormente specificato la sua scelta, dovuta non solo al reperimento dei fondi per la mensa, ma anche ad altre voci di spesa, come segnaletica, manutenzione e semafori, bolletta a Banoa, che ha fatto optare l'attuale amministrazione per la rinuncia ad alcuni eventi collaterali ai candelieri. Ma il caso a Rostita non si ferma, dopo l'aula infatti il dibattito è tornato sui social, dove lo stesso Pinna ha raccontato quanto detto nel corso della seduta. Ora le domande si sono spostate anche su quanto gli scorsi anni si sia speso per la Rostita, finanziata come noto da alcuni privati, ma che nel bilancio comunale aveva una voce di spesa pari a 73.000 euro, di cui 43.000 destinate alla società che organizzava l'evento e altre 19.000 circa per l'intrattenimento musicale, interrogativi messi in evidenza in aula, ma anche sui social. Insomma, l'affair a Rostita non finisce qui.